e allora via su inizia antonio antonio guarda un po che cosa ho trovato un soldatino e poi via 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 non so fare proprio niente non so fare proprio niente eccola qua ecco inutile soldatino un soldatino soldatino ma dove vuoi andare non hai nemmeno uno gongo ehi tu il passaporto ehi ho detto a te sei sardo oltre che stampio va bene forse sei straniero e allora te lo dirò in inglese passaport please resterò qui ad aspettare il suo ritorno è che io quando mi arrabbio non capisco più niente ecco basta basta ma nemmeno grazie 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 grazie